buonasera amici il bello della diretta ci sono problemi di linea con padre peter per collegarci ma c'è il mio team all'opera che sta cercando di risolvere i problemi ha detto boh mi butto vado in diretta io e iniziamo questo momento di dialogo anzi se qualcuno mi scrive qualcosa sotto così posso iniziare a rispondere in attesa sperando che padre peter riesca a mettersi in collegamento con noi perché l'idea di fare un diretta con padre peter perché il 13 giugno è stata la ricorrenza di sant'antonio da padova e volevo proprio parlare con lui che da circa un anno è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia di sant'antonio da padova in umac vicino mediugori mentre prima era vicario della parrocchia di ultima e quindi volevo proprio parlare con lui della devozione a sant'antonio anche se ciao eda ciao entrata l'amica del cuore eda da roma e con cui andremo insieme tra l'altro a mediugori adesso per l'anniversario ma non solo andremo anche da padre ioso sull'isola di badia e rossella grazie un saluto da padova io a proposito di padova tra l'altro abbiamo sulla nostra pagina facebook dei bellissimi video dell'amica francesca che ci ha mandato proprio da padova e per parlare di sant'antonio volevo proprio parlarne con loro in prima battuta ma giustamente sono molto impegnati con i giovani adesso in questi giorni per la festa di sant'antonio sto parlando di sant'antonio proprio da padova e stanno organizzando poi la gmg quindi erano molto presi sono stati gentilissimi hanno detto che sarebbe stato un piacere ma non potevano allora ha detto boh padre peter l'ho sentito ieri e gli ho proposto questa cosa buonasera manuela di questa diretta di stasera lui accettato di buon grado ma a quanto pare questa sera non riusciamo a collegarci ma insomma io spero ancora anzi invochiamo lo spirito santo insieme affinché magari si riescano a risolvere i problemi nel nome del padre del figlio dello spirito santo vieni santo spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla è senza colpa lava ciò che sordido bagna ciò che arido sana ciò che sanguina piega ciò che rigido scalda ciò che gelido drizza ciò che sviato donna i tuoi fedeli che solente confidano i tuoi santi doni donna virtù e premio donna morte santa donna gioia eterna bene ora che abbiamo messo tutto nelle mani dello spirito possiamo stare tranquilli buonasera pietro che verrai con noi sempre all'anniversario insomma questo anniversario già bello pieno di amici che vogliono venire quale go che rossella fatto servizio in basilica il 13 meraviglioso avevo tanti amici di 13 a sant'antonio da padova e magari vi conoscete anche tra di voi e quindi stavo dicendo ci stiamo preparando per questo pellevinaggio che faremo per l'anniversario di cui oggi inizia la novena e mentre aspettiamo appunto se il mio team riesce a collegarsi con padre peter diciamo anche la preghiera del primo giorno della dovena che normalmente la leggente maria fa ogni giorno salendo sul pobrodo proprio in onore di questa ricorrenza meravigliosa adesso sarà il 42esimo anniversario e maria veramente lo vi sa io con i miei occhi con il bel tempo il brutto tempo pioggia torrenziale una volta pioveva così tanto poverina che è salita da sola ecco la forza la voglia e proprio la certezza di quello che si vive la bellezza di quello che si vive che ti sa superare anche le tempeste ecco è stata un grande esempio per me quella volta la leggente maria quindi ecco vorrei pregare insieme a voi il primo giorno di novena che inizia proprio oggi nome del padre del figlio dello spirito santo amen preghiera la regina della pace madre di dio e madre nostra maria preghiamo insieme regina della pace si è venuta in mezzo a noi per guidarci a dio in petra per noi da lui la grazie affinché sul tuo esempio anche noi possiamo non solo dire avvenga di me secondo la tua parola ma anche metterla in pratica nelle tue mani mettiamo le nostre mani perché attraverso le nostre miserie difficoltà ci possa accompagnare fino a lui amen per cristo nostro signore grazie giovanna che hai messo in rilievo la preghiera così anche gli amici hanno potuto pregare con noi sono un po triste di questo di questo momento in cui attendiamo padre peter che quando si va meglio voli noi spesso andiamo a trovarlo ci dona questo libro e insomma volevo con lui parlare anche di alcuni punti ad esempio qua c'è che cosa vuol dire pregare col cuore ecco volevo parlarne con lui e trasmettere a voi questa esperienza che lui fa e che sa sicuramente trasmettere bene perché l'idea oltre al fatto di che lui adesso li nella parrocchia di padre di sant'antonio di sant'antonio in bosnia e rosegovina quindi parlare di sant'antonio perché l'idea di invitare lui perché lui comunque è molto conosciuto per questo dono che la mamma celeste gli ha fatto tramite la leggente miliana che sarà proprio il sacerdote che dirà i dieci segreti quando arriverà il momento in tanti chiedono a ma siamo vicini ai segreti al quarantesimo anno c'è chi diceva bene quest'anno è quello vero l'attraversata nel deserto il quarantunesimo anno si diceva ma adesso forse il quarantesimo è compiuto con il quarantunesimo insomma tutti pensano dando una pensiero logico che quale potrà essere il momento io nella mia piccolezza in realtà mi sono sempre detta il momento sarà un momento imprevedibile un momento che l'attesa di questi anni ce lo fa sentire vicino ma che in realtà come gesù ha detto solo dio sa quando sarà la venuta di cristo e per me i dieci segreti anticipano la venuta di cristo ecco proprio per quello nessuno di noi potrà immaginare quando inizieranno quindi io non mi sono non ho creduto nei 40 anni che sarebbe stato quello momento infatti così è stato nemmeno nel quarantunesimo e quindi quando arriveranno sarà ciao tamara buonasera sarà proprio padre peter insieme alla leggente miliana a darci il contenuto appunto di questi dieci segreti ma che cosa sono in pratica ovviamente i dieci segreti sono segreti e non si sa non si sa nulla o poco quel poco che si fa e che i primi due sono rivolti alla parrocchia il terzo sarà il segno indistruttibile dichiara di natura divina perenne che tutto il mondo potrà vedere ma la madonna ha detto malgrado il segno non tutti i ginocchi si chiederanno e aggiunto un'altra cosa molto forte la madonna ha detto anche con il segno no non aspettate il segno a convertirvi perché dopo non ci sarà più tempo per la conversione ecco siccome io credo che quando la madonna parla ecco lì c'è la verità totale buonasera silvana non mi pongo il dubbio di dire come mai lo dice so che se lo dice è così quindi so che questo è il tempo di grazia questo è il tempo in cui veramente dobbiamo fare il possibile per avvicinare il nostro cuore a dio quindi a convertirci e come farlo come la madonna ci insegna da decenni attraverso la preghiera la madonna ci dice pregate 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 ma poi ci dice anche fiate le mie mani tese come ho sempre detto a tanti amici la preghiera solo la preghiera può diventare una una maschera che noi mettiamo per dire ok ho fatto il mio dovere ma se la preghiera poi non si tramuta in azione quindi in bene ciao caro ivan in bene da trasmettere ai nostri vicini in attenzione alla ricambio l'abbraccio nadia un'attenzione al fratello che ci sta vicino per dirgli ti voglio bene oppure un aiuto in una difficoltà che può essere materiale morale psicologica ecco se noi non tramutiamo la nostra preghiera in in un'opera ecco la preghiera fino a se stessa penso che sia già una buona cosa ma che non sia tutto quello che ci viene qui chiesto perché medugori la mamma celeste ripeto ci dice pregate 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 ma poi ci dice fiate le mie mani tese quindi queste mani che operano queste mani che portano il bene queste mani che cercano le mani del fratello per camminare insieme verso la salvezza eterna verso quella meta che maria ci sta indicando in tutti questi anni a medugori perché medugori è un luogo diverso da tutti gli altri luoghi perché comunque a medugori si fa l'esperienza viva di questa presenza si vive una pace si vive una gioia si vive una fratellanza si vede una preghiera veramente spontanea che nasce dal cuore cosa che poi pur avendo fatta quell'esperienza tornando in italia sia veramente la difficoltà nel pregare nel nell'avvicinarci a dio io in italia noto che si parla tanto di fede ma si vive poco la fede non voglio essere polemica come mi appena detto un'amica ma è proprio un dolore nel cuore ma lo dico a voi ma lo dico anche a me stessa di questa preghiera che io conosco che si vive a medugori che si vive veramente totalmente ma si vorrebbe vivere continuamente ecco si arriva in italia e io mi metto per prima è nel calderone e si prega perché si è capita si è capito ciò che maria vuole da noi ma la fatica è diversa va bene che poi mi consolo perché so la leggente disca anche detto a noi pensiamo che quando preghiamo veramente con quel moto d'amore che dio ci mette nel cuore perché è un dono che ci sta facendo in quel momento ecco noi pensiamo che quella preghiera è più gradita dio rispetto a quando proprio preghiamo senza aver voglia preghiamo con fatica preghiamo in una maniera senza concentrazione diciamo dieci ave marie e abbiamo capito solo la prima parola perché la nostra mente vaga però ci siamo come dire detti no io voglio dedicare questo tempo a gesù e maria ecco visca detto che quella preghiera è ancora più accolta da gesù rispetto a quella che noi facciamo fluidamente quando lui ci dà la sua grazia ecco un po come dire la 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 povera che da la sua ultima moneta ecco è molto più gradita dio di un tesoro dato da un ricco perché un ricco quel suo tesoro e mille volte meno rispetto a quell'unica moneta di quella povera ecco la preghiera fatta con fatica e mille volte più accetta della preghiera data perché donata nel nostro cuore direttamente da dio cari amici sono passati già più o meno 13 minuti padre peter non non lo vedo ancora quindi se giovanna mi può scrivere così lo vedo se ha capito se si può risolvere il problema della diretta io lo comunico ai nostri amici se me lo scrivi qua giovanna così lo leggo intanto vi ricordo che domani venerdì 16 giugno e anche la ricorrenza del sacratissimo cuore gesù quindi è un altro momento molto forte questa è una settimana veramente piena di atti di devozione che veramente possono farci progredire nella fede e quindi compiamo questi atti di devozione viviamoli portiamoli nel nostro cuore cresciamo in questo ecco mi scrivono che purtroppo salta la linea e non lo so sono qua mi dispiace avervi delusi ci sono solo io ma se la mamma celeste ha deciso questo se l'addio incidenza perché nulla al caso ha voluto questo ci sarà anche un motivo a volte anche le delusioni offerte producono un'offerta ecco questa producono un effetto di grazia visca ci insegna che il dolore a differenza di quello che ognuno di noi giustamente sa del dolore che qualcosa da rifugire ecco visca ci insegna che il dolore offerto è una grande grazia sia per chi lo lo vive ma sia per chi attraverso quel dolore riceve una quel dolore offerto riceve una grazia da dio ecco che può essere la conversione può essere un aiuto una famiglia che tribola ecco quindi usiamo questa delusione di non aver visto padre peter e offrendo la gesù e maria e ringraziando lo stesso perché comunque c'è stato questo momento di dialogo tra di noi e da condividere ecco con questo cari amici vi saluto ma vi saluto leggendo un messaggio di maria padre peter non ci ha dato la sua perla di fede perché non non si è potuti non si è potuto mettere in contatto con noi in ma maria sicuramente parlerà ai nostri cuori vediamo che cosa ci dice messaggio del 25 novembre 2009 cari figli in questo tempo di grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie preparatevi con gioia alla venuta di gesù figlioli sia nei vostri cuori puri e accoglienti affinché l'amore e il calore comincino a scorrere attraverso di voi in ogni cuore che lontano dal suo amore figlioli fiate le mie mani tese mani d'amore per tutti coloro che si sono persi che non hanno più fede e speranza grazie per aver risposto alla mia chiamata ecco penso che la mamma celeste non ci abbia messo in contatto con padre peter perché ci voleva parlare di questo io vi ho parlato delle sue mani tese sentivo nel cuore questo e lei ce l'ha riconfermato qua rileggiamo e meditiamo insieme questo messaggio cari figli in questo tempo di grazia ecco il tempo di grazia di cui vi ho parlato prima che questo tempo che ci divide da qua al segno sulla collina perché la madonna ha detto che questo è il tempo di grazia perché poi dopo il segno non ci sarà più tempo per la conversione ecco io non so che cosa significa ma so di certo che se lei ce l'ha detto questo è il tempo di grazia ma grazia in cosa grazia nella possibilità di convertirci grazie nella possibilità di aprire il nostro cuore a dio e di farci guidare da lui perché noi cari amici siamo vivi su questa terra non per vivere le nostre passioni che più delle volte sono luciferina nel senso che sono peccaminose ecco e quindi ci allontanano da dio no non siamo su questa terra per vivere le nostre passioni il nostro benessere la nostra salute tutta grazia se dio ce lo do ce li dona ma siamo qui in realtà sulla terra per incontrare dio perché questi sono gli anni in cui noi possiamo decidere la nostra vita eterna come dice sempre la leggente maria quanto può vivere 80 crepi l'avarizia 90 anni ma cosa sono 80 90 anni rispetto all'eternità che ci attende e che cos'è un'eternità di dolore se noi finiamo al piano di sotto qui rifugiamo in tutte le maniere il dolore immaginiamo quel dolore terreno che anche se durasse tutta la vita è comunque limitato nel tempo pensiamo che cosa significhi averlo l'eternità allora già solo per questo cari amici dobbiamo capire l'importanza della conversione ora della conversione oggi della conversione in questo tempo di grazia che maria ci dà prima del segno perché proprio attraverso la nostra conversione attraverso il nostro pregare dio ecco noi possiamo salvarci per l'eternità e per l'eternità vivere quella gioia quella pace quella quell'amore infinito che cerchiamo qui sulla terra nei tempi nei modi sbagliati ecco e poi cosa ci dice ancora questo messaggio in questo tempo di grazia vi invito tutti a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie ecco la madonna ci tocca due punti importantissimi la preghiera che era appunto quello che padre petter ci spiega in questo libro quindi come pregare col cuore e quindi la domanda che volevo fargli a lui ma la preghiera comunque rimane preghiera iniziamo come ad esempio medjugorje i reggenti hanno iniziato con il sette padre ave gloria iniziamo per gradi meno sei vicini alla fede e quindi ci si sta avvicinando e e meno come dire abbiamo dobbiamo imporci periodi lunghi di preghiera iniziamo gradualmente iniziamo da un padre nostro un ave maria una decina o il sette padre ave poi piano piano sempre di più sentiremo veramente nel cuore la pace la gioia e l'amore per dio che ci porta a pregare per sentirci veramente sempre nella sua pace e poi cosa ci dice ci parla delle famiglie oggi una cara amica non so se in diretta mi ha mandato dei contenuti di una coppia omosessuale che si è unita perché loro parlano di matrimonio ma non è matrimonio quello il matrimonio è solo quello come la sacra famiglia padre e madre che procreano la sacra famiglia ce l'ha insegnato ecco e quindi ho visto veramente immagini brutte dove ci in questi come dire queste unioni per renderle belle che poi di bello non c'è niente ecco non sono famiglia come quanta madonna ci dice di pregare nella famiglia ma sono uno scignottamento di quello che vorrebbe essere famiglia ma che mai potrebbe essere famiglia perché la famiglia ha come obiettivo la vita ecco due uomini due donne insieme già sono brutti da vedere proprio così agli occhi no i nostri occhi non sono la nostra natura non è abituata a vedere quello ecco Maria ci dice di pregare nelle famiglie e la preghiera unisce la famiglia la preghiera dà il senso alla famiglia la preghiera fa capire che la famiglia è quella che Gesù e Maria ci hanno dato come esempio dice ancora questo messaggio preparatevi con gioia alla venuta di Gesù quindi Maria ci sta portando alla venuta di Gesù ci sta preparando alla venuta di Gesù e come in questi anni in cui lei è apparsa continua ad apparire grazie ma grazie Maria che concordi io lo so che tu con me concordi sempre perché siamo sorelle divisa la nascita a quanto pare lei in Sardegna io a Torino ci siamo visti una volta sola ma i nostri cervelli i nostri cuori sono in comunione quindi preparatevi con gioia alla venuta di Gesù certo che dobbiamo prepararci con gioia perché la venuta di Gesù che cos'è ai signori è l'attimo il momento in cui Satana verrà di nuovo cacciato all'inferno nel 2000 la mamma celeste ci ha detto che il demonio era slegato dalle catene e lo vediamo vediamo come dal 2000 in avanti veramente il nostro pianeta è andato in un delirio collettivo sempre peggio si sono persi tutti i valori appunto si è perso il valore della famiglia ma voi sapete perché hanno voluto togliere il valore della famiglia perché hanno voluto togliere il valore della sessualità maschio femmina dio li creò a parte dello scignottamento che il demonio fa sempre al contrario nei confronti di dio ma anche perché togliendo la famiglia togliendo rendendo la sessualità fluida si toglie l'essenza dell'umanità adesso ci vogliono portare addirittura al al oggi su mi sfugge la parola mi avete capita non la dico perché la dico sbagliata però transumanesimo ecco perché comunque vogliono svuotare l'uomo di quello che veramente è ciò che accoglie dio ci vogliono togliere dio ci vogliono togliere la sessualità ci vogliono togliere la famiglia perché ci vogliono rendere soli quindi manipolabili dalle loro trame tremende ma non hanno fatto un conto il conto che comunque dio interverrà certo l'umanità dovrà passare la tribolazione questa tribolazione che meritiamo perché comunque sodoma e gomorra come ho detto oggi non è mia amica ci fanno un baspo per quello che era il peccato in cui vivevano gli uomini in quell'epoca ora siamo veramente totalmente immersi nel peccato e quindi come possiamo fare avvicinarci a dio alla venuta di dio se prima non c'è questa purificazione quindi quello che è un mio pensiero e che comunque pregando veramente ci si aiuta ad affrontare questi tempi le persone pensano che allontanando dio dalle proprie vite si vive meglio si vive più felici più gioiosi più più non so cosa ma in realtà allontanando dio dalla propria vita si sprofonda nella nella paura si sprofonda nella depressione si sprofonda nel non avere amici perché l'amicizia l'amore sono solo doni di un cuore aperto all'amore di dio come passiamo amare il prossimo come diceva madre teresa di calcutta se siamo disposti ad uccidere se le madri sono disposte ad uccidere i figli nel proprio grembo cosa possiamo pensare che questa società possa amare noi essere già adulti ma se un bambino non rapisce il nostro cuore all'amore che veramente li stiamo come ha detto il professor viali a torino preghiamo per la sua conversione altrimenti veramente sarà sfidore di denti per l'eternità ha detto io i bambini di frullo perché cari amici veramente con l'aborto il bambino viene frullato viene fatto a pezzi e quel bambino il dolore lo percepisce molto più che noi adulti perché noi adulti abbiamo sulle terminazioni nervose abbiamo la pelle loro no ma comunque non voglio andare fuori tema voglio finire il messaggio quindi ci dice ancora sia nei vostri cuori puri e accoglienti affinché l'amore il calore cominciano a scorrere attraverso di voi in ogni cuore che lontano dal suo amore quindi come ci dice maria e noi dobbiamo rendere i nostri cuori puri e accoglienti perché solo in questo modo possiamo far scorrere attraverso di noi l'amore da donare a chi è lontano da dio ci richiama essere le sue mani tese le sue mani tese e mani d'amore per tutti per tutti coloro che si sono persi quindi proprio come ho detto prima inconsapevolmente di trovare questo messaggio che la madonna ci dice prima di pregare come ci ha detto in questo messaggio e poi ci chiede di essere le sue mani tese proprio mani d'amore per tutti coloro che si sono persi quindi queste questa preghiera che diventa operosità nel riguardare il nostro vicino il nostro vicino che può essere lontano da dio e noi possiamo donare attraverso la nostra preghiera e operosità oltre che a noi stessi a chi ci sta vicino veramente la strada per arrivare a dio e salvarci perché come ci dice maria in questo messaggio coloro che si sono persi non hanno più fede e né speranza ecco cari amici la fede ci dona la speranza ove speranza non c'è quindi in questo momento storico veramente dove tutto ci fa pensare al peggio dove tutto ci fa temere rimaniamo nella preghiera perché nella preghiera avremo sempre la speranza anche nei momenti massima tribolazione c'è la speranza perché c'è la speranza nella vita eterna in dio nella sua pace nella sua gioria e nella sua gloria grazie amici vi voglio bene grazie per essere venuti in diretta riproporrò a padre peter questo questa diretta anzi mentre sarò medjugorje dal 24 al 28 giugno andrò da lui così sicuramente riusciremo a farla e ve la riproporrò e anzi vi invito a partecipare a venire con noi se volete dal 24 28 giugno abbiamo ancora pochissimi posti se volete potete unirvi a noi andremo anche da padre ioso vi saluto caramente vi voglio bene condividete questa diretta se volete e attivate le notifiche ciao vi voglio bene ciao